ciao a tutti ragazzi sono speed1uno e oggi parliamo insieme di hm3 allora intanto cos'è hm3 è un software di tracking mani che useremo principalmente per due funzioni una è quella di avere un report e quindi analizzare post sessioni le nostre mani giocate e l'altro è quello di utilizzare l'ad ovvero un pannello dove possiamo visualizzare le statistiche avversari che dopo vedremo nel dettaglio allora per iniziare intanto per dare la possibilità a tutti anche a chi ancora non l'avesse di acquistare hm3 questo è il sito dal quale potete acquistarlo vi metterò sotto il video il link dal quale potete acquistarlo anche come nostri affiliati se volete e avrete alcuni vantaggi poi acquistandolo da nostri affiliati allora andiamo a vedere un po' più hm3 nel dettaglio questo è hm3 intanto come prima cosa vorrei farvi vedere come si fa a caricare l'ad visto che uno dei vantaggi che avrete prendendolo tramite noi è quello di avere il nostro ad free intanto per caricare il nuovo ad dopo che avete chiaramente l'ad nel computer andate su ad editor vi si aprirà questo questo pannellino e dove qua avete tutti gli ad che adesso su questi sono i miei ad su option import profile e adesso io ho già l'ad qua nella mia cartellina dovreste cercare la vostra cartella con dentro l'ad e selezionarlo chiaramente perché è un ad riferito ai tornei e il nuovo profilo è stato importato ok adesso ho caricato un nuovo profilo ad ok e aprendo una mano adesso questo è l'ad che avevo prima posso caricare il nuovo ad che ho messo come facciamo a caricare il nuovo ad andiamo nel menu qua su in cima dove c'è scritto ad e nell'ultima voce qua ci sono tutti gli ad che abbiamo caricato tra i quali possiamo scegliere e adesso scelgo appunto il nostro ad basic pocket space ok adesso come vedete mi ha caricato l'ad poi le posizioni voi le potrete spostare a vostro piacimento ora parliamo un po' delle statistiche che sono su questo ad e la prima chiaramente la nota che potrete aggiungere ai vostri avversari nome player numero mani e stack di pmbb può essere interessante per chi non gioca a mbb o su alcuni siti quali non dà la possibilità di impostare lo stack mbb avere anche questa statistica poi vpp, tfr e fall to steal fall to steal ha anche un pop up premendoci sopra si aprirà il pop up dove spiega semplicemente i fall to steal dalle varie posizioni questo 3 bet anche sulla 3 bet c'è un pop up per vedere la differenza posizionale del 3 bet degli avversari in base alla posizione nostra di open questo è fall to 3 bet 4 bet range inteso come 4 bet range non come 4 bet percentuale mi raccomando e questo è lo squeeze, queste sono statistiche overall non abbiamo messo pop up su queste statistiche quest'ultima colonna è open da early position, open da middle position, open da cut off, button e small blind allora noi per comodità preferiamo tenere un pannellino che ci può vedere direttamente senza dover aprire un pop up gli open dalle varie posizioni perché sono statistiche molto utilizzate in game che servono molto spesso le quali vogliamo sempre avere sott'occhio e non dover aprire un pop up ogni mano per vederle è una cosa interessante poi voi potete fare un pop up preferite per non tenerle sempre lì ben visibili ok questo è l'add ah l'ultima cosa l'add che ancora non ho aggiunto è che se premette sopra il nome riuscirà un pop up generale delle statistiche dell'avversario dove potrete trovare shibet, fall to shibet, reserve to shibet, dunk bet e aggression percentuale nelle varie street flop turn e river ok adesso ho spiegato l'add possiamo andare a vedere un po' di statistiche varie su hm3 per esempio adesso io sono sul mio account speed1.1 volendo se voglio cambiare account per esempio il mio account t88.2.1 posso aprire e così si cambia il tipo di account poi cosa altro torno per vedere una cosa fondamentale per chi inizia è vedere intanto di impostare tutti i siti una volta che è scaricato hm3 non tutti i siti sono impostati con la spunta verde come adesso vedete qua sui miei perché dovete selezionare le cartelline dove i vari siti salvano l'end history delle vostre mani per esempio su il network party poker che comprende gioco digitale e party poker questi sono i miei due nickname i software mi salvano le mani su queste due cartelle io ho imposto i percorsi e adesso hm mi ritracca le mani se ci sono dei percorsi sbagliati probabilmente qua avrete errori su hm e non funzionerà né l'add né vi caricherà le mani quindi dovete controllare sempre su site settings che i percorsi impostati siano i giusti percorsi dove vi sono caricate le mani poi cos'altro potremmo spiegare per quanto riguarda hm caso mai come portare una mano quello può essere interessante se qualcuno o qualche vostro amico o qualcuno con il quale potete studiare vi invia una mano da importare o un torneo vi arriverà un file txt e voi per importarlo dovete andare qua su import files mentre si e scegliere qual è la mano che vi mandano e importarla facendo apri stesso discorso se voi vorrete esportare una mano per esempio voglio esportare questa mano qua ci clicco col destro e faccio export a questo punto scelgo di riservare la mano per esempio desktop e seleziono la cartella e qui lui mi ha salvato la mano del mio desktop perchè poi posso inviare in formato texti a un'altra persona a cui la voglio far vedere a cui voglio farla caricare nel suo hm ok possiamo dire che su hm è tutto vi lascio il link qua sotto il video come vi ho già detto per eventualmente scaricarvelo comprarvelo tramite noi e per avere questi vantaggi per chi lo comprasse tramite il nostro link affiliazione può unendosi al gruppo discord richiedere l'add gratuito nella sezione richiedi add sarà sotto anche il link per iscriversi al canale discord che comunque potete ritrovare un po' su tutte le nostre pagine social e twitch ok per adesso è veramente tutto ci vediamo al prossimo video ciao a tutti